Il pubblico da derby Marco Antonio il secondo pare più agile di modello. Staremo a vedere. Si slanciano in perfetto allineamento. Dopo un fugace prevarere di Sannita viene il momento di Alvise. Poi all'altezza del miglio quello di Marco Antonio che all'entrare nella dirittura di arrivo guida ancora lui il gruppo serrato. Seicento metri dal traguardo. Attenza Moretto. Azione irresistibile. Il figlio di Traghese e di Zamora fila alla conquista del nazno a Turro. Si può parlare di capolavoro. Dell'imbattuto tre anni del fantino Gabrielli. E ritroviamo il primo piano del Marchese Zannoretti. Ha le lacrime agli occhi.